Buongiorno, prendiamo posto, iniziamo la conferenza stampa della scelta di Carlo Augusto Bakschmidt, spero di averlo detto giusto. No, prendete posto tranquillamente. Allora intanto faccio una piccola premessa, contrariamente a quanto ho chiesto nei giorni precedenti, preferiremmo oggi cercare di sentire i nostri ospiti prima e poi lasciare uno spazio eventualmente per le domande, visto l'argomento che andremo a trattare. Quindi ci siamo tutti, adesso io vi dico chi abbiamo sulla mia sinistra. Abbiamo appunto il regista Carlo Augusto Bakschmidt, Dario Zonta, produttore creativo, Dana Lauriola, Davide Grasso e Elena Traverso che sono protagonisti nel film. In prima fila dovrebbero esserci Maria Eva Profumo, però non vedo, sì ci sono, Mod Corino con suo figlio Leone Medosi, non c'è il figlio, Chiara Zanini, che è l'ufficio stampa se non sbaglio, Gabriele Proglio, Stefano Murgia e Vincenzo Pellicanò. Quindi benvenuti e iniziamo subito con il regista. Allora Carlo mi permetto di darti del tu perché ci siamo presentati poco fa. Questo è un film che racconta quasi dieci anni di storia, una storia di militanza e di lotta, però non voglio anticipare nulla, voglio soltanto sapere come è iniziato questo progetto, come ci sei entrato. Schiaccia, no, deve essere rosso. Ok, grazie, grazie per averci portato a Torino, al Torino Film Festival, che ci sembra essere la sede migliore per poter discutere di questo tema. E il progetto quando è iniziato? Il progetto è iniziato nel momento in cui da parte nostra, perché siamo in tre, oltre a me c'è anche Stefano Barabini e Michele Luvioli, con i quali ho condiviso questo percorso di dieci anni, e oltre ad aver scritto il documentario siamo anche produttori perché il film è interamente autoprodotto. E abbiamo iniziato dieci anni fa da Genova, siamo tre genovesi, che nel 2011 avevano terminato di seguire, soprattutto io che sono consulente tecnico, i processi relativi al G8 e al tempo stesso, e dunque eravamo arrivati al decennale, e al tempo stesso dalla Val di Susa nasceva, o comunque si riaccendeva, la nuova fase della lotta nottava attraverso la prima installazione del cantiere di Chiomonte e dunque le prime manifestazioni importanti a livello nazionale della Repubblica della Maddalena e poi del 3 luglio 2011. Quello è stato un momento particolare perché appunto il decennale ha segnato la fine dei processi, da parte mia anche l'uscita del documentario sul G8 a Black Block, e dalla Val di Susa ci veniva, come dire, il messaggio che veniva rivolto a tutto il movimento era quello, per conto nostro, di una rinascita del movimento stesso. E allora con Stefano e Michele abbiamo deciso qualche mese dopo, in coincidenza della caduta di Luca Bada al Traliccio, di salire in Val di Susa e di conoscerli questi in ottava, che ci sembravano molto, come dire, interessanti e attuali rispetto all'evoluzione che il movimento stesso in quegli anni stava vivendo. E ci domandavamo appunto perché fossero riferimento per tutta Italia del movimento, come dire, sì di territorio, ma appunto di un movimento nuovo che si era rigenerato nella lotta stessa. E abbiamo capito, piano piano, con gli anni, comunque, conoscendo diverse persone, quali fossero questi caratteri identitari che rendevano il movimento così interessante per tutti. Ci siamo stabiliti in Val di Susa un anno, abbiamo seguito, accolti da Nicoletta D'Ozio in credenza, abbiamo seguito il movimento in tutte le sue forme, dalle azioni sulle reti, alle assemblee, ai movimenti, sino poi arrivare al 2014, 13, 14, 15, quando sono nati i processi che hanno coinvolto più di mille notav come imputati. E dunque le storie si sono, come dire, sviluppate in modo imprevedibile. Multiplicate anche. Si sono sviluppate in modo imprevedibile, soprattutto per noi. E dunque non trovevamo, come dire, un punto d'arrivo di questo racconto. E ci siamo rimasti coinvolti, diciamo, in questa storia che ci ha portato successivamente anche con Davide, che ha fatto un'altra esperienza importante, oltre la Val di Susa, a seguire alcune di queste persone fondamentalmente per capire quali erano le ragioni più intime, profonde, che li motivavano a restare, malgrado il costo che loro stessi hanno pagato durante tutti questi anni, a restare dentro il movimento. E dunque la nostra sfida era quella non di ricostruire un racconto dei fatti, non di ribadire le ragioni del no, ma di comprendere i motivi e le intenzioni di queste persone. E dunque scoprire più le persone che, diciamo, mettere a fuoco l'aspetto ideologico. Infatti nel film, scusate, mi permetto di aprire questa piccola parentesi, c'è veramente un ingresso nell'intimità di alcune persone che hanno fatto parte di questa lotta. Dario Zonta, tu come sei entrato nel progetto? A Dario do del tu, perché ci siamo forse da qualche giorno. Se ci mette non me lo ricordo più. Se Carlo se lo ricorda come sono entrato, mi sentite. Non lo ricordo come sono entrato, Carlo, però insomma, a un certo punto sono entrato abbastanza presto. Sei entrato un anno dopo, nel senso che noi abbiamo fatto questa esperienza di un anno intero in Val di Susa, abbiamo prodotto un primo premontato e tu sei stata la prima persona che ha visto questo lavoro a Milano. Esatto. E ho voluto, ho deciso, ho pensato fosse importante come progetto e per me anche personalmente rilevante poter dare il mio contributo come producer, come producer creativo, come persona che diciamo un po' si mette al fianco degli autori dal punto di vista produttivo e anche creativo perché abbiamo avuto scambi, diciamo così, plurimi in questi anni su come far emergere e far crescere il progetto. Fare i documentari è difficile, fare i documentari che interrogano la realtà, che interrogano momenti di vita sociale è ancora più difficile. Fare un documentario su questa storia, su questa storia di lotta, di resistenza, di militanza, di contrapposizione, di una comunità è ancora più difficile. Il tempo, il fattore tempo, cioè il fatto che questo film segue questa comunità nell'arco di dieci anni è di per sé un valore cinematografico e anche testimoniale. Immaginate, dieci anni sono tanti, di mezzo c'entra la vita, la vita anche delle persone come poi si vede, la vita delle persone che vengono raccontate ma anche di quelle che fanno il film. È un pezzo di vita. Io sono ammirato, veramente ammirato e voglio ringraziare Carlo, Stefano e tutti quelli che hanno avuto la perseveranza per dieci anni di stare su questo film. Mettendo in gioco anche il loro percorso, la loro vita, anche forse altri progetti perché si sono trovati dentro questo mondo e non hanno mollato e potevano mollare sinceramente più volte, perché è così, perché è complicato. Ricordo, perché questo è un altro valore, che film è un film autoprodotto. Dicevamo con Carlo, potremmo definirlo questo un film militante, solo che oggi questo termine è poco compreso e quindi genera un'ambiguità dal punto di vista della definizione. Ma questo è un film militante, prima di tutto perché militanti sono gli autori in quanto è un film totalmente autoprodotto, non c'è un centesimo che venga da qualsiasi realtà istituzionale di qualsiasi tipo, se non da le tasche degli autori e di chi ha partecipato in maniera militante, perché ha deciso di volerlo fare. E questo è già un secondo elemento. Quello che ne viene fuori quindi è un ritratto di una comunità il più aperto possibile che restituisce più anime del movimento, non certo tutte, non tutte nello stesso modo, perché sarebbe stato impossibile. Il film ha una sua identità, una sua autonomia, un racconto dal di dentro di questa grande esperienza di lotta di una comunità che in Italia non ha pari, non ci sono precedenti in questo frangente temporale. Oggi questo film ha un ultimo, voglio dire questa ultima cosa, un ulteriore valore perché oggi, come scrivevo in quelle due note che Carlo mi ha chiesto, questa esperienza che è stata duramente colpita, duramente colpita in una maniera esorbitante, sembra fantascienza. A me sembra fantascienza. Un passato che sembra fantascienza. Non so quanto sarà più possibile riprodurla. Però questa è una mia riflessione, forse anche un po' una provocazione, perché qui ci sono persone che agiscono sul territorio, vivono la militanza e la militanza li ha attraversati, ha determinato le loro vite, quindi ci diranno quello che pensano, anche rispetto al percorsi che loro stanno facendo, facendo individualmente o collettivamente rispetto anche ad altre cose. Questo film si intitola La scelta, quindi in questo titolo c'è tanto, cioè l'atto di scegliere. Come diceva Silone, il primo compito di una persona è quello di scegliere i compagni di strada. Ecco, questo film racconta anche questa cosa qua, la scelta dei compagni di strada. Poi ci si trova, ci si perde, però si fa un pezzo di strada insieme. Questo film lo racconta. Allora, sentiamole queste vite che vengono riprese da questo film. Io inizierei, abbiamo tre dei protagonisti, il protagonista sembra un termine abbastanza, forse sbagliato, rispetto a quella che è la vostra presenza nel film, perché voi siete voi stessi. Io inizierei, se volete, con Elena, attraverso, con Dana, Dana Lauriola. Dana Lauriola, quindi grazie, Dana, se vuoi. Sì, effettivamente non siamo attori, siamo stati ripresi, abbiamo conosciuto Carlo e gli altri in lunghi anni di manifestazioni, iniziative, assemblee, tanto che col tempo, insomma, loro erano diventati una parte riconoscibile e assolutamente partecipe delle dinamiche di questa comunità che noi amiamo chiamare famiglia Notav della Val di Susa. Non è la nostra una storia che si riferisce al passato, è una storia ancora viva e quindi fa molto effetto vedersi nel film e pensare a tutta la strada che si è fatta, anche alle sfide che abbiamo dovuto affrontare. Io stessa sono reduce da due anni di detenzione, sette mesi al carcere delle Vallette, oltre un anno agli arresti domiciliari per una manifestazione pacifica su un'autostrada della Val di Susa, Rea, di aver parlato al megafono e quindi di aver condotto le folle. Pochi giorni, insomma, dopo la caduta di Luca Bada al Tralicio, che è la parte, insomma, iniziale del film ed è stato un momento che ci ha segnato profondamente. Oggi, insomma, il movimento Notav continua a lottare, il tunnel, il grande tunnel dove dovrebbe passare questo grande treno di 57 chilometri, non è stato ancora costruito neanche un centimetro, ci sono delle opere accessorie, quindi, insomma, noi resistiamo e siamo tutt'oggi in tribunale per un processo che prima ci ha visti accusare circa 80 appartenenti a Movimento Notav e altre realtà sociali torinesi, come il Centro Sociale Ascatasuna, lo Spazio Neruda, di associazione sovversiva, no? Anche questo nome evocativo che uno pensa di aver archiviato decenni fa invece è stato ancora rispolverato perché ci sono delle persone che a loro dire, parole dei pubblici ministeri, si sono permessi di provare a contrastare un'iniziativa voluta dai governi in più sedi istituzionali. Oggi questo processo è stato un po' rimodulato perché l'accusa era roboante, era troppo, insomma, ad effetto e adesso siamo sotto processo in sedici per associazione a delinquere, quindi sedici persone, dobbiamo dirlo, tra le più visibili, le più esposte, che si sono associate per creare dei problemi di ordine pubblico e il Ministero della Difesa, il Ministero degli Interni, il Consiglio dei Ministri si sono costituiti parti civili perché credono che noi del movimento Notav dobbiamo rimborsare lo Stato dell'uso spropositato di lacrimogeni e forze dell'ordine. Questo è rapidamente un po' un punto della situazione, insomma. La cosa importante, io credo, riconosco a questo film, la delicatezza e la voglia di approfondire delle scelte che sono sicuramente scelte di vita. I personaggi del film sono persone che hanno dato delle priorità alla propria vita anche con a volte alcuni tentennamenti, alcune difficoltà perché il prezzo a volte può essere alto da pagare, ma credo che restituisca, insomma, la profondità e la consapevolezza di una scelta, di mettersi in gioco non solo per se stessi e per la propria famiglia, ma anche per gli altri, per la terra in cui viviamo e per il pianeta che vorremmo proteggere. Questo è un po', insomma, quello che penso sia importante dire oggi. Grazie. Davide, Davide Grasso. Prego, poi se vogliamo mantenere gli ultimi cinque minuti magari per una domanda perché poi stiamo esaurendo il tempo. Si sente? Sì, adesso si, grazie. Sì, diciamo appunto io tanto ringrazio Carlo, Dario e gli altri che hanno lavorato a questo film, vuoi per essere qui, la mia presenza nel film si sviluppa da militanti del movimento Notav in Val Susa, si caratterizza poi per di fatto portare la questione della scelta sul totalmente altro rispetto a ciò che noi viviamo, ciò che noi siamo, ciò che noi consideriamo possibile o pensabile, nel senso che poi io come altri Notav ho fatto la scelta di aderire a un movimento, in realtà una rivoluzione vera e propria che si stava sviluppando, si sta sviluppando negli stessi anni in cui esiste in questa piccola valle italiana il movimento Notav, la rivoluzione della Siria del Nord-Est, del Rojava, del movimento kurdo che ha cambiato la situazione in Siria distruggendo lo stato islamico, gli anni in cui si svolgono le immagini del film sono anche gli anni in cui avvenivano gli attacchi di Daesh nelle città europee, in cui è stato attaccato il Bataclan, è fatto che mi ha sconvolto e mi ha portato di lì a pochi mesi a fare questa scelta di cambiare completamente scenario, di fatto anche militanza, perché non c'è chiaramente paragone tra quello che si vive in un movimento che pur deve affrontare fenomeni di repressione surreali come quelli che richiamava Dana e uno scenario di guerra. Questo lo voglio sottolineare molto brevemente perché purtroppo invece in questa città c'è stata in questi anni una malsana abitudine a voler accostare in qualche modo quello che è il movimento Notav alla violenza o a degli scenari che sarebbero addirittura potrebbero essere letali per qualcuno. Ancora recentemente la questura di Torino ha avuto il coraggio di sostenere che le tattiche, questo è il loro modo di esprimersi, dei manifestanti Notav potrebbero aver beneficiato di esperienze che alcuni di loro hanno fatto in Kurdistan. Ora al di là del fatto che qua c'è davvero la disonestà intellettuale prima di tutto, credo che sia soprattutto offensivo nei confronti delle popolazioni che vivono in altri paesi, situazioni terrificanti come quelli della Siria o di paesi simili, il Kurdistan, e volerle in qualche modo per fini totalmente strumentali, questo l'ha fatto anche la procura di Torino in questi anni. Accostarle invece è un movimento pacifico perché è tutto quello che ha fatto il movimento Notav, anche quando è resistito, anche quando sono state tirate delle pietre. In Val Susa in realtà siamo sempre all'interno di un fenomeno pacifico se vogliamo dare un significato alle parole, se vogliamo renderci conto di cosa è la vera violenza che noi non viviamo e quindi per questo penso in qualche modo anche forse la testimonianza di chi si è trovato in questi anni da europeo in degli scenari a vivere situazioni ecco sullo stesso piano insieme ai ragazzi medio orientali che non hanno la possibilità di immaginare neanche uno scenario come quello in cui viviamo, forse può essere utile ad arrestare questa apparentemente inarrestabile decadenza culturale dell'Occidente che rispetto nella figura proprio delle istituzioni giudiziarie e di polizia di questa città ha voluto come dire pensare l'impensabile e cioè utilizzare addirittura le tragedie degli altri popoli per delle beghe di fatto di casa nostra che magari a volte possono aver aiutato qualche ufficiale o qualche magistrato ad avere qualche notorietà in più. Questo lo voglio dire qua davvero chiudo perché comunque anche la vicenda della Sierra del Nord, del movimento del Rojava, del Kurdistan è attuale, le mie amiche e i miei amici sono sotto le bombe in questo momento, bombe turche, bombe di un paese della Nato che cadono su civili e sugli stessi combattenti che hanno sconfitto lo Stato Islamico e credo che di questo non si stia parlando abbastanza e lo dico perché qua appunto l'opportunità di avere di fronte dei giornalisti, io credo che ci sia un problema con le redazioni dei mezzi di informazione italiani, con i capi redattori, non tanto con i precari giornalisti che fanno il loro lavoro ma ci sono dei fenomeni che io non comprendo, cioè diversi pesi, diverse misure e a volte soprattutto rispetto alla vicenda kurda che è così importante in realtà per noi per tanti motivi si continua a tacere perché è un paese alleato dell'Italia a ammiacchiarsi di crimini di guerra, è un paese della Nato in questo caso a commettere dei crimini, allora a maggior ragione visto che noi non abbiamo la censura che c'è in Siria, in Iran, in Russia, allora però le notizie devono uscire, queste cose devono essere raccontate altrimenti c'è un problema di responsabilità ancora maggiore paradossalmente da parte della stampa, per questo io ho insistito e ringrazio Carlo per averlo permesso perché oggi due parole le possa anche dire Elena appunto che non è una protagonista del film ma è una attivista dell'assemblea di Fend Kurdistan che vuole giusto dire due parole su una manifestazione che ci sarà a Torino alle tre questo sabato in Piazza Castello su questo problema. Prego. No no ecco deve rimanere rosso, grazie Elena. Grazie, io appunto sono Elena, sono qua come studentessa, ragazza, donna che fa parte di questa assemblea di Fend Kurdistan, questo weekend c'è stata una grossa manifestazione a Roma in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, uno degli slogan principali che è stato ripreso è Jin, Jian, Azadi, donna, vita, libertà, che ci arriva dai moti di protesta delle donne iraniane contro il regime islamico ma che in realtà ha un'origine precedente, infatti ha origine sulle montagne del Kurdistan dove il PKK porta avanti una guerriglia di resistenza contro lo stato fascista turco, slogan che è stato ripreso poi dal popolo e dalle donne kurde nei territori della Siria del Nord-Est, del Rojava come diceva appunto Davide, che vivono secondo i principi della rivoluzione confederale, secondo appunto i principi di uguaglianza, di libertà autonome delle donne, di ecologia radicale e che si trovano attualmente sotto attacco per ora aereo ma Erdogan ha già dichiarato di voler iniziare una guerra, quindi una vera e propria invasione via terra, un attacco efferato, qui appunto i termini, cioè per dare una misura della violenza in atto, vengono utilizzate bombe, scusate, armi chimiche, armi termobariche che sono vietate nei conflitti e tutto ciò tra l'altro sotto la silenziosa condiscendenza delle potenze globali quali i russi e i Stati Uniti, infatti gli spazi aerei sopra Kobani e sopra Manbij che sono città attualmente sotto assedio sono controllate proprio dalla Russia e degli Stati Uniti che non si sono espressi in alcun modo contro questa invasione, ma la popolazione kurda continua a resistere, noi siamo al loro fianco perché la loro rivoluzione può essere anche la nostra rivoluzione, la Turchia in questo momento vuole ampliare i propri confini ma le ragioni profonde poi di questo conflitto, tutto ciò tra l'altro bombardando anche in zone limitrofe dove ci sono campi di detenzione dei prigionieri dell'ISIS, quindi permettendo, creando la possibilità all'ISIS di liberarsi e quindi quella loro rivoluzione, la rivoluzione del Rojava è anche la nostra rivoluzione e può essere anche la nostra rivoluzione, proprio per questo motivo Erdogan la causa profonda di questa guerra, di questo attacco è la volontà di silenziare e di distruggere un'esperienza rivoluzionaria, invece noi dobbiamo assolutamente prendere posizione e schierarci dalla parte del popolo kurdo, dalla parte di questa possibilità rivoluzionaria, per questo ci vediamo in Piazza Castello sabato, questo sabato, 3 dicembre alle ore 15. Bene, abbiamo esaurito il tempo, mi dispiace non c'è tempo per nessuna domanda, ringrazio gli ospiti, ringrazio tutti e passiamo alla successiva conferenza stampa, grazie.